4 nuove telecamere, una all'Istituto Tecnico Fusinieri, due all'Istituto Piovene, una quarta tra la stazione dei treni e della SVT, e poi il cane antidroga che entrerà in servizio effettivo all'interno della Polizia Locale di Vicenza. Firmato in prefettura al tavolo del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, il protocollo Scuole Sicure, un progetto pronto a partire per l'autunno che progressivamente sarà esteso ad altri istituti. Più di 50.000 euro, parte finanziati dal Ministero dell'Interno, parte dal Comune, sono a disposizione dell'amministrazione per combattere la piaga della diffusione della droga tra gli studenti delle scuole superiori della città. È rilevantissimo poter agire anche sul profilo della domanda e quindi ci sono delle attività che vengono svolte dall'amministrazione comunale che sono anche attività di informazione e sensibilizzazione all'interno del mondo delle scuole proprio su questa tematica così importante. E poi ci sono evidentemente tutta una serie di ambiti che hanno a che fare più specificamente con la prevenzione e gli interventi repressivi e anche su quelli si interviene all'interno di questo protocollo con l'implementazione del sistema della videosorveglianza e anche con un'attività mirata posta in essere con l'ausilio di un cane antidroga. I numeri forniti dal SER del Servizio per le Dipendenze dell'Ulse Berica al Comune parlano chiaro. Su un campione di 439 studenti tra i 15 e i 24 anni, 9 su 10 hanno dichiarato di aver fatto uso di cannabis, 1 su 10 anche minorenni di droghe pesanti come cocaina e anfetamine. Una piaga contro cui l'impegno è agire su più fronti. Nell'ambito del protocollo sottoscritto i fondi andranno anche ad aumentare le ore a disposizione degli agenti per i controlli 20 ore in più al mese. Importante anche il capitolo dell'informazione e della prevenzione. Tutto rendi contato. Ogni mese infatti il Comune invierà un report alla Prefettura.